Quella storia lì, a me è cambiato tutto ancora. Ognuno di noi ha dentro di sé questa possibilità di rimanere sconfitto oppure di fare una capriola e di ripartire. Sono più felice di prima, anche la mia famiglia. E due mesi fa mi sono sposato. Da un fallimento, una rinascita. Perché omo faber? Omo faber perché è un uomo al lavoro, un uomo che lavora e un uomo che riprende in mano la dignità di sé. Ho fatto una prima richiesta e non sono stato preso. Poi dopo sei mesi che ero anche quasi pronto ad uscire, ho deciso di rifare questa domandina. E poi, proprio mentre ero al 21, con la Patrizia, c'è stato questo, come per dire, un incontro con lei. Perché un giorno ci siamo guardati negli occhi e c'è stata un po' di commozione per entrambi. Che mi ha sbossa un po', no? Non pensavo mai di frequentare la casa come la frequento oggi. E con loro ho incontrato la chiesa, nel senso. Sono sempre stato ateo. E quindi dopo un anno, tra me e me, tra tutti, non lo so, i dubbi, le incertezze, tutto quello che vuoi, ho fatto un percorso di poter arrivare al battesimo, no? Però il lavoro non basta. Sì, tu puoi anche dare il lavoro alla persona. Ma spesso la persona ha bisogno di ritrovare quell'aspetto affettivo, relazionale, che permette di stare insieme. Non puoi togliere un pezzo di questo. Perché questo è talmente vero che uno, anche se lavora, poi passa dentro casa. Torna qui per un caffè, per una cena, per un pranzo, no? E quando torna poi e va via, spesso arriva il messaggio che dice che bello, no? Che è stato stare insieme. Eppure non abbiamo fatto niente di eccezionale. Ma diventa eccezionale la possibilità di condividere la vita. Vengo qua e mi rilasso del tutto. Cioè, proprio esce fuori il meglio di me. Tu, se non avessi fatto questo incontro, in realtà... Ah, chissà dove sei oggi. Cioè, non saprei dove sarei. Poi, sinceramente, avrei abbandonato tutto. Quindi avrei abbandonato la mia famiglia. Abbandonare vuol dire che avrei spento i telefoni e non li avrei più sentiti. Andai all'estero, chissà dove sei. Perché io di carattere sono un po' freddo di mio. Cioè, io e la mia famiglia non ho mai detto ti voglio bene. Cioè, mai. All'unica volta, io l'ho detto alla Patrizia, gli mandai un messaggio, gli ho scritto ti voglio bene, te lo dico qui, perché a voce non te lo riesco a dire, no? Infatti, da quando l'ho incontrata, cioè, mi sono commosso più nella mia vita in questi mesi che... La tua durezza, sì. Che in tutto c'è volta. Bello. Qui siamo nel magazzino Digi Group, da dove nasce la Homo Faber, che ha una sede dentro il carcere di Como e ha un centro stampa esterno che è il Banco Informatico e Biomedico. E che cosa fa? Si occupa di ritirare dalle aziende computer obsoleti e di ridargli una nuova vita, di donarle alle OILUS. Quanti computer? Dunque, solo nel 2020 abbiamo donato più di 4.000 computer. Sorbono. Sì. Celestino, 57 anni, iniziato nel lontano 84. E cosa facevi? Avevo circa 20 anni e sono partito con traffico di droga, che è andato poi male, ecco. E quando ti avevano dato? Avevo preso 7 anni. 7 anni. È stata una rampa di lancio. Quindi il carcere ti ha dato la possibilità di migliorare la tua professionalità delinquenziale. Esatto. E da questa storia qua, diciamo che io dovevo fermarmi lì. Che lavoro facevi? Prima facevo come un muratore, un'impresa edile. Praticamente ero diventato l'uso di quello per riciclare denaro. E c'è stata una seconda caduta con un'altra condanna? Con un'altra condanna e mi entro in carcere nel 2011 e in cella con me c'era una persona che mi dice ascolta, visto che non hai neanche poi tanto adesso da finire da scontare, ti manca due o tre anni se vuoi, c'è giù un centro che io sto andando tutti i giorni e se vuoi ti faccio fare un colloquio con Patrizia Colombo. Da quella storia lì a me è cambiato tutto ancora. Tu oggi hai finito la tua condanna? Io oggi ho finito. Cosa fai adesso? Faccio l'operaio e ad oggi, cara grazie, perché ripeto, io con tutto quello che avevo alle mie spalle, con tutto quello che sarei ricaduto in un attimo. Tu vieni da dove? Io vengo dal Marocco. Come ti chiami? Okita Noridin. Undici anni fa sono venuto qua in Italia, no? Quando sono venuto sono andato dalla mia zia e un giorno Gustavo mi apre la porta tipo così, mi ha detto cosa vuoi? No, mi ha detto tu la casa qua non ce l'hai più. Cioè ti ha buttato fuori casa? Sì, sì, sì. E senza motivo. Comunque lì è stato il cambiamento della mia vita. Avevo 15 euro in tasca e lì sono partito e ho andato a Milano per trovare gli amici che possono darmi la mano. E un giorno sono arrivati sul tavolo una montagna di polvere bianca. Sì, è cocaina. Sì. Ci facciavano? Io non ho capito che è cocaina la prima volta che li vedevo era quella. E ho detto se vuoi venire con noi vieni. E sinceramente non ci ho pensato due volte. È passato un po' di tempo e sono entrati la polizia alle 6 del mattino e hanno portato via tutti. A me mi hanno fatto solo la foto poi sono rimasto lì a casa e da lì sono partito anch'io. E un giorno è arrivato il mio turno che mi hanno arrestato anche a me. Ti hanno arrestato? Sono stato condannato 6 anni e 4 mesi. La prima notte era incredibile non la dimenticherò mai in carcere. Paura? Paura, angoccia, tristezza. Il mio pensiero è andato subito a mia mamma. E subito ho reso conto di quello che avevo fatto. Il secondo anno è perché andavo anche lì a scuola dentro il carcere e passavo davanti al centro stampa e mi diceva un assistente guarda perché non fai la domandina e entra al centro stampa? E ho fatto un colloquio con Patricia mi ha preso un giorno c'era un ospite al centro stampa esterno e abbiamo parlato del perdono. E parlava un ragazzo che diceva guarda io sono stato perdonato da mia mamma e la sua mamma faceva la badante prendeva poca soldi e andava fino a come trovarlo poi io mi sono andato fuori testa. Ma come fai a perdonare te stesso se la tua mamma è di qua e di là? E lì mi sono scoppiato anzi pianto tanto e subito mi ha abbracciato alla patria e quell'abbraccio che mi ha ti ha cambiato si mi ha cambiato la vita. E spesso questi ragazzi io dico ragazzi anche se hanno alcuni hanno anche 50-60 anni come me sempre ragazzi però per me sono i miei ragazzi e io dico che i miei ragazzi voglio bene appunto hanno proprio bisogno di sentirsi abbracciati nella loro totalità. Oggi faccio una vita semplice arrivi al fine mese non arrivi però guarda una felicità come questa non ho mai goduto ho avuto tutto quando facevo quella roba lì i soldi ne avevi a stufo ma guarda se ti dico una bugia le pesavamo con la bilancia i soldi adesso hai finito la tua condanna sì ho finito 2019 adesso cosa fai? adesso lavoro un negozio di frutti e verdura che non ce n'è niente però anche questo lavoro mi ha trasmesso tanti hai trovato tanta umanità comunque perché mi è stata data perché hai ricevuto tanto ho ricevuto tanto anche quell'abbraccio lì che era diverso tra quegli abbracci della mia vita io dono fino ad ora e donerò quello che riesco gratuitamente guarda l'abbraccio adesso ci abbracciamo se non avessi passato questa esperienza io sarei solamente come dire piena di quello che io sono mentre io sono fatta di un altro e questo altro è quello che mi ha permesso di venire fuori da lì che mi ha permesso Grazie a tutti.